Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti. In questi 45 minuti vedremo un po' di teoria. Vi spingerò per 45 minuti al massimo, però poi ci facciamo una pausa a caffè, recuperiamo un quarto d'ora e poi vi faccio vedere l'ultima parte, come ha detto Andrea, appunto tutti gli sviluppi che abbiamo fatto sul software, partendo appunto da tutta la teoria che vedremo anche in questi 45 minuti, oltre a quelli visti con Andrea. Allora, parto subito con una domanda, è facile, in quale di questi hotel investireste i vostri soldi? Beh, a parità di camere, se sono grandi uguali, quello che ha più ricavi in teoria. Ecco, oggi impareremo a vedere che guardare i ricavi è solo la metà della verità, manca un'altra metà per cercare di fare un quadro totale della situazione. Come lo faremo? In una maniera abbastanza semplice, utilizzeremo uno standard internazionale, quindi molto complesso, anche il libro usali è abbastanza complesso, però cercherò di spiegarvelo il più facile possibile, magari saltando solo qualche piccolo dettaglio. La formula però è semplice, ricavi, e quindi tutta la disciplina del revenue management, meno costi, uguale profitto o perdita, mettiamolo tra parentesi, non l'auguro a nessuno, ovviamente, però è semplice, è una semplice sottrazione che ci insegnano alla scuola elementare. Tutto questo è profit management, non è solo la gestione dei costi, ma è la gestione dei costi in relazione al profitto. E lo vedremo con un esempio anche più avanti, andrò il più veloce possibile, cercherò di farvi vedere tutto. Ricordate sempre, revenue is vanity, profit is sanity. Cosa significa? Io spesso anche al TG sento che vengono dette, queste aziende fatturano tantissimo, certo, ma poi di quel tantissimo, quanto resta nelle proprie tasche? Vi stupirete se andando ad analizzare meglio i dati, capirete che le aziende più grandi del mondo, tipo Netflix, tipo anche tutte quelle, soprattutto online stile Netflix, sono tutte fortemente in perdita, perché investono in marketing molto di più di quello che guadagnano. Quindi è vero che fatturano tanto, ma poi in tasca non resta tantissimo, e quindi non sono delle aziende così sane, ma sono delle aziende che fanno tanti ricavi. Ok, che cos'è quindi l'USALI? L'USALI è l'acronimo di Uniform System of Account for the Lodging Industry, ed è praticamente uno standard internazionale, che le catene alberghiere americane nel 1926 si sono unite tutti insieme, hanno detto ok, a Orlando io ho tre hotel, tu ce ne hai quattro, l'altra catena ce ne ha due, siamo diversi, alcuni hanno il ristorante, alcuni no, alcuni hanno la piscina, alcuni no. Come facciamo a paragonare le nostre performance 1926? Stiamo parlando di un secolo fa, quindi non ieri. Ovviamente si aggiorna costantemente, l'ultima versione è l'undicesima, entro la fine dell'anno, ma in realtà a questo punto più nel primo semestre dell'anno prossimo, dovrebbe uscire la dodicesima edizione con un dettaglio migliorato proprio sulle utenze. Guarda un po' quello che diceva Andrea, ed è quello che sta succedendo adesso, c'è bisogno di avere maggiore chiarezza da quel punto di vista lì. Come funziona lo standard usali? Questo libro infinito e difficile, prende ogni struttura ricettiva, quindi se voi siete un BB, una fitta camere, un hotel con tutti i reparti, o se siete semplicemente un ristorante, o un parcheggio, o avete un campo da golf e basta, non ci avete camere, se siete una qualsiasi di queste strutture che ricevono clienti, potete applicare la suddivisione che loro hanno studiato. Qual è? Dividiamo ognuna di queste in tre. Prima parte, reparti operativi. I reparti operativi sono tutti quei reparti che materialmente generano dei ricavi e dei costi. Reparti generali sono quei reparti, approfondiremo meglio nelle prossime slide, più generali, come per esempio l'amministrazione. L'amministrazione non è un reparto che mi porta dei ricavi, ma senza l'amministrazione non funzionerebbe il ristorante, l'hotel, le camere e via dicendo. Tutti gli altri reparti, come per esempio anche le utenze in un reparto generale, perché ovviamente le catene alberghiere americane sanno, almeno fino all'ultima versione, l'undicesima, vedremo la dodicesima, sanno che è difficile avere un contatore per ogni reparto e quindi le utenze vengono messe tutte nei reparti generali. E poi, come giustamente diceva anche Andrea prima, i reparti non operativi, perché lì ci andranno tutti i ricavi e tutti i costi che non c'entrano con l'operatività quotidiana, ho detto altrimenti con ROGC, con reddito operativo di gestione caratteristica. Vedremo una serie di indici, non concentratevi troppo sul nome, anche se cercherò di rendervi il più semplice possibile. Quindi dividiamo qualsiasi struttura in queste tre macro aree e poi, a propria volta, ogni macro area la dividiamo in vari reparti. Per esempio, i reparti operativi sono un reparto camere, colazione, bar e ristorante. In realtà abbiamo deciso, io e Andrea, di dividerlo, perché lo standard internazionale dà una sola scheda food and beverage. E lo standard internazionale, quindi, è tutto in inglese, troverete tutto tradotto in italiano per comodità, anche alimenti e bevande, che è molto più carino nominarlo in inglese, suona molto meglio food and beverage, piuttosto che alimenti e bevande. Ma noi lo abbiamo diviso in tre. Perché? Perché ci siamo accorti negli anni che molti clienti, alla fine del mese, facevano un profitto del reparto food and beverage zero. Quindi ricavi uguali a costi. Poi però, da quando abbiamo iniziato a fare quest'ulteriore divisione, abbiamo visto che mediamente la colazione qualcosina ci guadagnava, il ristorante qualcosina ci perdeva, e quindi, mettendoli insieme, tutto il food and beverage faceva zero. E quindi abbiamo deciso di fare un'ulteriore suddivisione. Questi sono i reparti operativi. Ovviamente, tutti questi reparti, tranne i ricavi vari, generano sia dei ricavi, sia dei costi. E quindi avranno questi reparti delle voci di ricavo e delle voci di costo. Poi ci sono i reparti generali. Quali sono i reparti generali? Questi che state vedendo, amministrativo generale, vendita e marketing, utenze, manutenzione e via dicendo. Quindi tutti questi reparti, in realtà, non solo dei costi, non possono avere dei ricavi, ma senza i reparti generali non funzionerebbe nessun reparto operativo. Quindi sono quelli che mediamente hanno anche i costi fissi maggiori, perché anche quando siamo chiusi sono dei reparti che comunque dei costi ce li hanno. E infine i non operativi, come diceva Andrea, affitti, mutui, tutto quello che non risponde alla domanda sono un bravo gestore di struttura o di un reparto? Perché il fitto, se io sono un bravo direttore e faccio più soldi con la struttura, non è che mi abbassano il fitto o le tasse o i mutui, e via dicendo. Quindi tutti quei costi e quei ricavi che non dipendono dalla nostra bravura di gestore della struttura ricettiva. in ogni reparto, quasi tutti in realtà, non tutti, i costi vengono divisi in due aree principali, costi del lavoro e tutti gli altri costi. Cosa significa? Lo vedremo meglio nel dettaglio scheda per scheda, anche se velocemente, perché non abbiamo tanto tempo. Cosa significa? Che nel reparto camere, per esempio il primo, possiamo avere sia un costo del lavoro che non è solo il salario del dipendente. Sono sette voci di costo e il salario del dipendente, che poi vedremo diviso in due, tra i dipendenti management, quindi quelli di direzione di quel reparto, e i dipendenti non management, quelli più operativi, le imposte, i premi e gli incentivi, i buoni pasto, voucher e quindi quant'altro tutto quello. Quanto ci costa la gestione della busta paga del dipendente, quindi la quota del commercialista, per gestire la busta paga di quel dipendente? Se io non avesse avuto quel dipendente, l'azienda, la struttura ricettiva X, quanti soldi meno avrebbe tirato fuori dalla tasca? Quindi non è solo quanto arriva in tasca al dipendente, quanto esce dall'azienda. E lo andremo a vedere meglio. Iniziamo quindi, reparto per reparto, a capire un po' come funziona l'analisi. Per esempio, il reparto camere. Si fanno tutti i ricavi delle camere, del solo reparto camere, ovviamente, e poi andremo a vedere meglio anche quali sono tutti questi ricavi, meno i costi operativi, che abbiamo detto si dividono in due, costo del lavoro, per esempio queste voci, ovviamente poi più avanti vedremo anche nell'ultima parte della giornata come salari e stipendi si dividono in due, spese relative ai salari e stipendi si dividono in altre tre voci, quali invece sono voci univoche. E tutti gli altri costi che vedremo nella prossima slide. Quindi banalmente ricavi del solo reparto camere, meno costi del solo reparto camere, tutti i costi del solo reparto camere, si trova quant'è il profitto, GOP, tecnicamente l'acronimo, Grosso per Rating Profit, da qui anche il nome Go Profit, è proprio per questo, per cercare di spingere Go Profit, di spingere i profitti al massimo, cercando di insegnarvi un metodo di analisi che funziona per tutte le catene alberghiere del mondo da un secolo. Quindi se funziona per loro con tutte le loro particolarità, magari potrà funzionare pure per noi che siamo un po' più piccoli. Invece, tutti gli altri reparti operativi, non tutti ne mancano due, ma lo vediamo tra un po', ma i reparti operativi come Food & Beverage, Golf e Negozio Professionale, perché posso anche vendere l'attrezzatura da golf, o Spa e Centro Benessere, il parcheggio, o altri reparti, che è un reparto generico, che alcuni clienti, per esempio, che utilizzano Go Profit, un cliente a Venezia utilizza altri reparti per la gestione dei ricavi di costi delle gondole, perché ha delle gondole che dà in affitto. Altri clienti, invece, qui in Romagna, usano altri reparti per la gestione della spiaggia, quindi costi e ricavi derivanti dalla spiaggia. E quindi è un reparto che si può adattare facilmente ad altre cose che non sono, ad altri reparti operativi che non sono tra questi. Però come si fa? Si fa ricavi meno costi primari. Quali sono i costi primari? Beh, facile, per gli alimenti e bevande, food and beverage, è il costo degli alimenti, è il costo delle bevande. Quindi la materia prima. Si fa, prendiamo il ricavo totale, iniziamo a togliere la materia prima, per quanto riguarda il food and beverage, per quanto riguarda gli altri reparti, il costo d'acquisto. perché se io, per esempio, per il golf, rivendo le sacche da golf, o le mazze da golf, avrò un costo d'acquisto e poi avrò anche una vendita. Allora, iniziamo a togliere tutta la materia prima per arrivare a un primo profitto lordo di quel reparto. E quindi, ricavi meno materia prima, quanto c'è? A questo, come sempre, come in tutti i reparti andremo a vedere, li vado a togliere tutti gli altri costi che si dividono in costi del lavoro e altri costi per arrivare a un profitto. Vi starete chiedendo quali sono tutti questi altri costi. Ve li faccio, vediamo se riesco. Ecco, questo è un esempio di quali sono la lista dei costi. Ci sono più di 500 categorie di costo, 590 categorie di costo. Quindi è molto dettagliata l'analisi. Per esempio, carburante per la cucina è una voce di costo che troverete solo per il reparto F&B, Food and Beverage, non troverete per tutti gli altri reparti. Quindi è una voce univoca. Mentre commissioni la trovate in giallo, in questo caso, perché commissioni la troverete come costo sia nel reparto camere ma anche nel reparto F&B. Perché se io su Booking vendo la pensione completa, di quella commissione che pago una quota è delle camere, l'altra quota è della colazione, l'altra quota è del ristorante. Non è un costo interamente delle camere se il ricavo non è interamente delle camere. Se avendo la Room Hall, invece su Booking è ovvio che la commissione che mi arriva è esclusivamente del reparto camere. Ok, e altri voci invece in verde come costo delle divise perché lo troverete in tutti i reparti dove c'è del personale. Ovviamente costi delle divise non lo troverete nel reparto utenze, non lo troverete nel reparto non operativi. Lo troverete e dovunque c'è del personale. Quindi c'è, ci sono una marea di voci che vi faccio vedere meglio reparto per reparto se riesco a gestire il mouse stando girato. Per esempio andiamo a vedere il reparto camere. Il reparto camere abbiamo detto che il profitto, cerco di ingrandire anche un più, perfetto, il profitto è dato da dei ricavi meno dei costi. Ma quali ricavi? Questo tipo di ricavi qui. Attenzione, soprattutto in go profit quindi nel software visto che dal lato dei ricavi esistono varie tipologie di software non varie software varie tipologie il PMS vi fa analisi anche per segmento per esempio gli RMS vi fanno previsioni di venduto quindi sui ricavi bene o male avete tanti strumenti. L'analisi si concentra molto di più sull'aspetto dei costi ma come diceva giustamente Andrea l'aspetto economico e non fiscale. quindi gestione dei ricavi divisi in queste categorie qui gestione dei costi divise come dicevo prima in costo del lavoro e quindi salari e stipendi ma salari e stipendi management e non management spese relative ai salari e stipendi quindi benefici per i dipendenti perché per esempio il TFR non è una tassa andrà al dipendente non va allo Stato quindi è un beneficio che io pian pianino pian pianino tiro fuori dall'azienda ma non è un'imposta sui salari è un beneficio che è per i dipendenti così come può essere il buono pasto l'alloggio e via dicendo e tutti gli straordinari quindi queste sono tutte le spese correlate ai salari e stipendi chiudiamole entrambi e poi infine le altre voci di costo del lavoro lavoro a contratto in leasing o esternalizzato cosa significa il classico esempio dell'outsourcing delle pulizie camere l'outsourcing delle pulizie è un costo del lavoro non è interno perché non gli do io un salario direttamente ma è un costo del lavoro che compro dall'esterno ma comunque è un costo del lavoro e quindi comunque va all'interno di questa categoria costo del lavoro che prevede tutti questi poi i premi incintivi è quello che vi dicevo quanto costa gestire far gestire la busta paga dal commercialista perché ho assunto quella persona in più invento ipoteticamente 30 euro al mese della quota che pago al commercialista per gestire la singola busta paga quindi per gestire 10 dipendenti mi fa pagare 300 euro ok e tutti gli altri costi di questo solo reparto camere stiamo vedendo quali sono una sbalangata abbonamenti iscrizioni a riviste o associazioni professionali acquistano le attrezzature adobe e via dicendo alcune di queste voci come dicevamo costo delle divise e lo troveremo anche negli altri reparti che tra un po' apriamo altri voci come commissioni gruppi e commissioni solo in camera e in fb non lo troveremo in tutti gli altri quindi questa è la divisione che vi propone lo standard internazionale non tutti hanno una catena alberghiera quindi molti di voi non avranno non utilizzeranno questa voce perché non c'è un ufficio centrale e via dicendo andiamo a vedere per esempio l'fmb al volo il profitto lordo è dato dai ricavi ricavi di alimenti o di bevande o altri ricavi e costi primari alimenti e bevande poi ulteriormente è suddiviso ma non ve lo faccio vedere qui ve lo faccio vedere tra i costi più avanti nel software come vedete il costo del lavoro in tutti i reparti è identico sempre quella è l'analisi del costo del lavoro prevede queste voci si ramifica in questa maniera da standard così per tutti i reparti mentre gli altri costi anche in questo caso dipende da reparto a reparto alcune voci sono comuni a più reparti altre voci come cristalleria non lo troverò in camera e non lo troverò in golf tranne se non è un costo eccessivo perché con le palline da golf mi rompono un sacco di cristalleria ma sto scherzando quindi ovviamente F&B questa andiamo a vedere per esempio SPA profitto lordo dato da dei ricavi che possono derivare da queste voci qui dei costi primari la materia prima che vendo alla SPA quindi se vendo una crema quanto mi è costata quella crema per arrivare a un primo profitto lordo al quale sottraggo tutti i costi operativi che si dividono in costo del lavoro sempre divisi in quella maniera e tutti gli altri costi quindi lo standard non è altro che un elenco di grafici di tabelle di suddivisione di costo che però più avanti nella seconda parte nell'ultima parte della giornata vi renderò molto molto più simpatica e veloce manca da vedere tra i reparti operativi che non abbiamo ancora nominato i reparti operativi minori quindi da standard hanno detto perso il mouse da standard hanno detto dividiamo i ricavi e costi alimenti e bevande occasionali sia come costo sia come ricavo qui ce l'abbiamo come costo il chiosco cioè tutte queste voci magari io non ho un ristorante non ho una piscina non ho un bar non ho determinati reparti ma ho solo piccole cose per esempio alimenti e bevande occasionali sono un b&b non ho un ristorante ma ogni tanto organizzo l'aperitivo il ricavo di quell'aperitivo lo metterò lì qui il costo di quell'aperitivo lo metterò qui non c'è bisogno di attivare il reparto ristorante per piccole cose o ho dei distributori automatici ai piani il ricavo lo metterò qui il costo lo metterò qui o faccio pagare il nolleggio film in camera il ricavo lo metterò qui il costo lo metterò qui quindi i reparti operativi minori prevede esclusivamente queste voci qui sia di ricavo che di costo le stesse e infine l'ultimo reparto operativo è ricavi vari quindi prevede solo ricavi ricavi vari dove ci sono queste voci qui dove per esempio delle particolarità possono essere queste perché la cancellazione di una camera non è un ricavo del reparto camere è come se io ho venduto un prodotto ma poi me l'hanno dato indietro quindi non c'è stata una vendita se non c'è una vendita quel ricavo che io ho preso come penalità è un altro ricavo è una penale di cancellazione non va nel reparto camere perché altrimenti cosa succede che se io in un mese faccio 1000 euro di penalità e le metto nel reparto camere quando poi faccio la media delle camere vendute ricavi diviso camere vendute i ricavi sono più alti di 1000 euro ingiustamente quindi non è quello il giusto prezzo medio che viene fuori perché perché c'è in più una quota che non dovrebbe andare lì ma dovrebbe andare separata tra i ricavi vari quindi tutte queste voci qui per esempio se prendo delle commissioni perché sponsorizzo un ristorante piuttosto che un altro una compagnia di taxi piuttosto che un'altra non è un ricavo delle camere è un ricavo di questo di questa roba qui o se faccio pagare i clienti per lavare internamente perché se era un lavaggio esterno lavanderia clienti posso avere sia il ricavo sia il costo ma se è un lavaggio interno io ho solo il ricavo il costo ci sarà l'utenza e quant'altro che però c'è tutto il reparto di competenza il guadagno della lavanderia lo devo mettere qui non nel reparto camere e abbiamo finito la parte dei reparti operativi avete domande? siete tutti taciti concentrati? online ci sono domande? tutti taciti e concentrati anche online perfetto va bene continuiamo andiamo ai reparti generali i reparti generali erano 5 vediamo i primi e 3 perché la divisione è uguale ed è molto semplice solo costi amministrazione a solo costi sia del lavoro sia altri costi vendita e marketing certo provoca dei ricavi nei reparti operativi che può essere camere piuttosto che il ristorante ma solo costi tecnicamente manutenzione e gestione della prefetta solo costi quindi come si fa? non c'è un profitto è sicuramente una perdita questo reparto perché ha solo costi sia dipendenti se ce ne sono per questi reparti sia altri costi non lo vedremo in questo caso però come per i reparti operativi ci sono alcuni costi comuni coste delle divise c'è per tutti perché tutti questi reparti possono avere del personale ma in amministrazione per esempio c'è commissioni bancarie come voce di costo che in tutti gli altri reparti ovviamente non c'è in manutenzione e gestione della proprietà c'è piscina quindi tutti i costi della gestione della manutenzione della piscina vanno lì in vendita e marketing c'è franchising fee per esempio se siete quindi fate parte di un gruppo di best western che in teoria ci sta ascoltando ok andiamo avanti informatica e telecomunicazioni è simile agli altri reparti generali con qualche dettaglio in più ci sono i costi operativi costo del lavoro e altri costi come sempre in più ci sono i costi dei sistemi questo l'hanno aggiunto nell'undicesima versione questa parte qui perché perché tutti i software che io utilizzo tutti i sistemi che utilizzo reparto per reparto per capire quanto sto spendendo di tecnologia all'interno della struttura e se voglio quanto sto spendendo reparto per reparto e poi il costo dei servizi anche questo è nell'ultima versione nell'undicesima tutte le bollette telefoniche internet quindi informatica e telecomunicazioni qui ci va tutta quella roba qui lì tra gli altri costi di informatica e telecomunicazioni c'è per esempio acquisto hardware che ovviamente non c'è nelle camere e infine le utenze dove c'è solo il costo dei servizi lo vedremo più avanti lo vedremo tra un po' non manca moltissimo e quindi vedere quanto spendiamo di elettricità di gas piuttosto che di vapore perché è una delle voci da standard internazionale andiamo a vedere i reparti generali quindi vediamo velocemente un esempio amministrativo generale quindi questo reparto qui come vedete non ha ricavi ovviamente a solo costi che si dividono in costo del lavoro non lo aprirò più nel resto della giornata penso di averlo detto già troppe volte avete capito che si divide sempre così in tutti i reparti le voci sono sempre queste quello che cambia invece sono gli altri costi dove alcune voci lavaggio delle divise o costo delle divise in tutti i reparti credito e riscossione in amministrative generale donazioni e via dicendo non spaventatevi a vedere un elenco infinito di voci perché dalle undici e un quarto in poi abbiamo ancora tantissimo tempo vi farò vedere come tutto questo nel software c'è già c'è già anche la descrizione di quale tipologia di costo ci va in quella categoria e ci sono già anche degli esempi che vi fanno capire che costi vanno in quella categoria ci arriveremo vediamo informatica e telecomunicazioni che vi avevo detto la particolarità costo del lavoro diviso in quella maniera altri costi che ha solo queste poche voci perché in più ha costi dei servizi e quindi tutta la telefonia e la parte internet e costo dei sistemi cioè tutti i software tutto quello che riguarda i sistemi informatici quindi anche non solo tutti i software c'è anche sistema informatico centralizzato quindi tutto ciò che serve per i server c'è anche risorse umane se avete dei software di gestione del personale c'è anche sicurezza informatica quindi tutti gli antivirus e via dicendo ok vendite e marketing ancora qualche altro esempio fotografie o segnaletica esterna o sito web tutta una serie di costi che vanno catalogati per capire come stiamo lavorando non posso dire parolacce che siamo in diretta ok chiudo anche questa parte anzi scusate vi faccio vedere utenze giusto per farvi vedere l'ultimo e tenerlo completo questo da standard internazionale americano che non è similissimo allo standard italiano queste sono le utenze che vengono registrate partendo da questo standard vi faccio un po' di spoiler dalle 11 e un quarto vedremo come voi lo potete personalizzare lo potrete con Hong Kong Profit personalizzare come vi pare ma partendo da quella base lì quindi toglierete tutto ciò che non vi serve aggiungerete tutto ciò che dell'elettricità vorrei un ulteriore dettaglio e capire quanto è elettricità solare e quanto invece altro ok andiamo avanti reparto non operativi quindi tutto quello che non fa parte dei costi reali di gestione di una struttura quindi ricavi meno costi semplicemente perché anche questo reparto può avere un profitto perché se ho tanti ricavi non operativi per esempio interessi in banca o altri ricavi Andrea faceva l'esempio del mi pagano perché metto l'antenna sul tetto allora se metto l'antenna sul tetto e mi pagano quello non è un ricavo delle camere non è del ristorante della colazione della spa è un reparto non operativo è un ricavo non operativo e quindi mi va tra gli altri ricavi dei non operativi invece tra i costi devi Andrea il microfono subito dopo il GOP dobbiamo considerare i costi non operativi ok puoi ripetere la domanda al microfono giusto per le line si diceva che subito dopo il GOP è quella la posizione per inserire i costi non operativi perché giustamente sono costi non imputabili alla gestione la stessa cosa non vale anche per i ricavi non operativi quello che non operativo perché allora lì l'abbiamo messi prima diciamo della linea del GOP attenzione qui stiamo guardando solo il reparto non operativi quindi per capire il profitto di solo quel reparto facciamo ricavi meno costi dove questo profitto lo andremo a mettere nel sommario è la prossima slide ovviamente diciamo che è specifico per quel tipo di reparto costo e ricavo abbiamo visto finora tutte queste schede sono sempre questo è solo di informatica e telecomunicazioni questa è solo per questi tre come sono arrivato alla fine a non operativi questa è solo per questo non operativi la prossima slide è sommario dove ok mettiamo tutti i reparti insieme vediamo tutta la struttura come gira posso? certo un reparti non operativi che è sempre quella più così contestata e ad esempio alcune manutenzioni perché ci sono manutenzioni operative la lampadina il cambio di un gabinetto di una qualsiasi una operativa oppure un cambio di caldaia quella non è operativa quindi ad esempio una manutenzione importante una manutenzione straordinaria non va nei costi operativi dell'albergo ma va nei reparti non operativi quindi manutenzione straordinaria anzi ottima precisazione Andrea volevo proprio dire che siccome in molti casi il proprietario è anche il gestore il costo di manutenzione del gestore della persona identificata gestore va nel reparto manutenzione il costo della stessa persona perché il proprietario sia gestore ma di una manutenzione straordinaria è come quando diamo infitto prendiamo infitto una casa alcune manutenzioni sono di competenza di chi è il proprietario altre invece di chi ci sta infitto quindi le manutenzioni straordinarie sono del proprietario le ordinarie di chi è infitto stessa identica cosa andiamo al sommario ti rispondo subito aprendo l'excel e quindi facendo vedere molto di più di quello partiamo subito dal reddito netto il reddito netto è quanto vi resta in tasca proprio stretto stretto quanto vi resta in tasca dipende da scusate aumento lo zoom così vi faccio vedere un po' meglio dipende da ho perso il mouse l'ebidda che è un famoso indice economico che non staremo qui ad affrontare più di tanto però significa semplicemente ricavi prima di ammortamenti depreciamenti interessi e imposte quindi questo indice qui l'ebidda è prima di tutta questa parte qui di costi tra l'altro voglio specificare una cosa in inglese si dice before interest taxes depreciation e ammortization cosa significa? in italiano purtroppo si utilizza male la parola ammortamenti perché ammortamenti quindi questa voce di costo qui riguarda solo i marchi i brevetti quindi tutto ciò che è immateriale l'ammortamento tecnica poi colloquiamente anche io con i miei clienti parliamo sempre di ammortamento ma tecnicamente è solo per tutto ciò che è immateriale mentre tutto ciò che è un bene fisico è un depreciamento di quel bene perché nel tempo vale sempre meno non vi apri i depreciamenti perché potrebbero essere per reparto per ogni categoria e via dicendo però quindi si arriva al reddito netto quindi a quanto mi entra in tasca quanto mi resta in tasca andando a capire quale è l'Ebidda e togliendo tutta questa quota di costi qui cosa c'è sopra l'Ebidda? c'è il profitto pre-non operativo e tutto ciò che è non operativi sia ricavi sia i costi cosa c'è nel profitto pre-non operativo? c'è il GOP famoso indice quindi qui è quanto è bravo l'albergatore fin qui quindi tutto quello che adesso andremo a vedere sopra che non è altro che tutti i reparti che abbiamo appena visto è quanto è bravo il gestore poi se alcuni reparti sono in gestione esterna quindi se ho dei ricavi o dei costi da una società di gestione esterna perché magari il ristorante me lo gestisce un altro e quindi posso avere sia costi sia ricavi e quindi questi due insieme la mia brevura insieme alla bravura di quest'altro o perdita di quest'altro si arriva a un profitto pre-non operativo quindi quanto siamo bravi a gestire tutta la struttura a questo ci mettiamo tutti i costi e i ricavi che è vero che la mia società ha preso ma che non c'entrano nulla con la struttura e a questo poi andiamo a togliere tutto il resto sotto come si arriva al GOP? andando a capire qui prima qual è il profitto dei reparti operativi e quindi prima ad andare a capire quali sono i ricavi reparto per reparto alimenti e bevande diviso così altri reparti diviso così e poi quali sono i costi reparto per reparto e infine i costi generali tutto questo che vi sembra molto complesso e soprattutto all'ultimo arrivato che gli piace un sacco il marketing non il numeri sembrerà molto complesso ma adesso faccio un caso pratico se riesco tempo permettendo non manca moltissimo e così vi faccio vedere ci sono delle domande mi dicono scusate allora Pisano mi chiede perché il ristorante di albergo è considerato un reparto in perdita perché di solito e lo andremo a vedere tranne se non è un ristorante gestito come un vero e proprio ristorante quindi faccio l'ipotesi se dovessimo chiudere l'hotel e il ristorante riuscisse ad andare da solo con le sue gambe allora qual è un vero ristorante spesso invece il ristorante è utilizzato per gli hotel come un contorno al piatto principale che è la camera ma guardate non è una cosa strana può essere fatto deve essere fatto le catene alberghiere americane a Las Vegas utilizzano il reparto camere come contorno del casino non gli interessa guadagnarci dalle camere ci guadagnano molto di più dal casino ma se nelle camere non dorme nessuno probabilmente non ci sarà nessuno nel casino allora le camere posso mandarlo pur in perdita di mille euro di diecimila euro al giorno se dal casino ci faccio centomila al giorno di profitto chi se ne frega se invece dal casino ci faccio mille euro di profitto e dalle camere ci perdo diecimila allora la bilancia come potete notare ma si può tenere alcuni reparti in perdita l'obiettivo di go profit non è farvi capire quali reparti avete in perdita perché già lo sapete e farvi capire di quanto è quella perdita perché se quella perdita è poco quel reparto in quel mese si può tenere tranquillamente aperto senza nessun problemi se però la perdita è tanta magari la decisione estrema è chiudi il ristorante a inizio stagione perché se no è in perdita la decisione intermedia può essere invece di farlo servito lo faccio al buffet studio una maniera diversa affinché l'equilibrio costi e ricavi di quel mese di quel reparto sia sostenibile Luisi Ferreri Ferrari per gli scambi merce offriamo una camera contro un servizio fotografico per esempio come vi hai detto certo allora lì in realtà non hai né un costo né un ricavo quindi non dovresti registrare nulla perché potenzialmente non hai nulla poi in teoria però potresti anche registrare anche un ricavo fittizio è un costo fittizio tanto si annientano è un po' come l'IVA che sul software vedremo non va registrata perché non è un costo e perché ha compensazione quindi è inutile registrare quanto prendo di IVA quanto do perché alla fine la somma darà a zero Luisi ci chiede questo ne hai già parlato i costi figurativi e ammortamenti i costi del periodo e se inseriamo anche il magazzino iniziale allora nel magazzino vedremo più avanti il software il magazzino ancora non ce l'ha non so se lo metteremo l'anno prossimo stiamo valutando vi dirò anche tutti gli eventuali sviluppi futuri anzi dovrebbe arrivare per pausa anche chi ha fisicamente creato il software che vedremo più avanti però tutto quello ti rispondo più avanti perché voglio farvi prima il caso andare avanti con le slide altrimenti scade il tempo e ci sbagliamo online ok i costi si dividono in fisse e variabili questa non è una divisione che l'USALI prevede però io ve la dico perché la vedremo più avanti costi fissi sono quei costi che non cambiano a cambiare del venduto vendo 10 camere 20, 20, 30 sempre quello è il costo scusate qual è l'esempio fitto manutenzione ma anche personale il costo del receptionist non mi cambia se noi in quel mese abbiamo venduto 1000 camere o 10 sempre quello è lo stipendio però attenzione perché ci possono essere alcuni costi fissi se siamo aperti per esempio i receptionist alcuni costi se siamo chiusi il fit e il mutuo lo paghiamo lo stesso anche se siamo chiusi e sono un costo fisso perché non variano se vendiamo di più paghiamo meno mutuo ci sono i costi variabili che quindi variano man mano che vendiamo ogni singola camera ogni singolo tavolo ogni singolo metro quadro e per esempio possono essere questi perché pian pianino più ne acquistiamo e più quindi l'economia di scala tiriamo un prezzo più basso dal fornitore alcuni esempi linee cortesia o materia prima il kit cortesia se la camera oggi la occupo quel costo è di oggi se la camera oggi non la occupo quel costo sarà di quando la occuperò quindi variabile dipende in base a quando si realizza appunto quel costo quindi fissi più totali uguale cost por sto andando velocissimo manca pochissimo ci sono tanti indici gli indici cosa sono? sono semplicemente dei numeri che ci fanno capire senza andare a fare l'analisi completa tipo per esempio se faccio i costi variabili per ogni camera diviso le camere che ho venduto in quel giorno in quel mese in quella settimana e ci aggiungo i costi fissi per camera del solo reparto camere diviso le camere vendute trovo nient'altro che il costo per camera occupata cioè cost por cost per occupied room di questi indici ne troveremo un po' vado più veloce ma sono tutti così quindi questo è il costo per occupied room la slide dopo è per available room cosa significa? a prescindere da quante sono occupate o no diviso tutte le camere che io in quel periodo avevo disponibili alla vendita se poi non le ho vendute fa nulla cosa trovo in questo caso trovo il cost par e quindi qual è la differenza? la differenza è che se l'hotel X ha 2000 euro di costi e ha venduto 10 camere se faccio 2000 euro diviso 10 camere ogni camera ha un costo di 200 euro è la matematica ok mentre tutti gli altri casi sembrano molti più convenienti però in realtà se vado a fare che hanno in realtà tutti i 100 camere e quindi vado a dire no andiamo a fare i costi totali ma diviso tutte le camere non solo quelle vendute perché è ovvio che questo ha un prezzo basso le ha vendute tutte questo ne ha vendute solo 10 ma facciamo come se tutti avessimo venduto tutte le camere chi ha il costo più basso? è proprio l'hotel X che sembrava quello che in realtà con l'alto indice sembrava avere il costo più alto questa è l'analisi degli indici in realtà si possono fare molto facilmente perché basta prendere tutti i ricavi e dire rev 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 tutti i costi cost 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 tutto il profitto GOP grosso per et in profit ta 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 diviso cosa? camere vendute per occupied room diviso camere disponibili allora finale in par per available room diviso clienti allora finale con la C diviso client o customer per available seat per available table e per available square meters quindi potete trovare il profitto a metro quadro per ogni reparto e quindi magari avere ho 100 metri quadri lì cosa faccio? cosa mi conviene fare? camere, colazione o ristorante? vendiamo quant'è il profitto al metro quadro di ogni reparto e in base a quello decido cosa cosa devono diventare quei 100 metri quadri vado veloce devo andare all'esempio quindi il profitto come si trova per camera occupata ricavo per camera occupata meno costo per camera occupata o ricavo meno costo per diviso camere occupate gopar voglio andare all'esempio questi sono una serie di indici che magari poi se rivedrete la registrazione con calma mettendo pausa capirete anche meglio ma magari ne riparliamo con voi che siete in sala anche dopo voglio andare all'esempio questo qui ci sceglieresti tra questi clienti laser group individuali business group individuali beh di solito economicamente stiamo facendo un corso chi paga di più vero ma stiamo analizzando solo il reparto camere e tutto il resto perché magari potremmo scoprire che in realtà chi paga di più in totale perché spende un sacco nella spa è il cliente individuale leisure quindi è questo il cliente che dovremmo vendere l'ultima camera perché è quello che ci fa guadagnare di più non solo dalle camere ma da tutto ok però poi potremmo anche iniziare a vedere i costi e dire chi è il cliente che dovremmo prendere beh tra i costi il cliente che ci costa meno e quindi dovremmo prendere questo quindi se analizziamo i ricavi dovremmo dire leisure individuale se analizziamo i costi dovremmo dire no quello che ci costa meno è gruppi leisure ma se andiamo a vedere in base al profitto chi ci conviene prendere non era nel migliore dei ricavi nel migliore dei costi ma è quello che ci dà più profitto quindi è questo in questo esempio il cliente al quale noi dovremmo vendere l'ultima camera non più o meno così perché altrimenti se poi non facciamo soldi è matematica ok caso studio velocissimo reddito netto di questa struttura stagionale questo è un cliente che ho preso attualmente che lavora su go profit quindi lo ringrazio e come ringrazio tutti quelli che attualmente lavorano su go profit e che ci hanno dato 6 mesi di feedback che a imbuto vi presenterò alle 11 e un quarto quindi tutte le migliorie che ci sono state richieste sono tutte da chi lo utilizza attualmente quindi grazie mille questo è un esempio di un cliente due stagioni fa reddito netto quanto ha fatto quanto erano operativi abbastanza fisso questo sarà un fitto o un mutuo che paga tutti i mesi circa 21 mila euro più qualcos'altro di extra ok poi dei costi generali di 88 mila euro per questi cinque mesi e dei profitto dai reparti operativi di 800 mila euro andando a indagare meglio però quello che mi suona strano è questo dato qui tra luglio 21 mila e settembre 22 come mai agosto è così basso e ovviamente visto che nei reparti operativi c'è tutto il profitto della struttura andiamo a vedere meglio questo ok vediamo il sommario espanso e quindi andiamo a capire costi reparto per reparto e andiamo a vedere come mai i costi generali a settembre erano tanti però dipende dalle utenze nelle utenze abbiamo pagato troppo a settembre rispetto ai mesi prima o meglio guardando il sommario adesso io mi dovrei dire visto questa incongruenza poi dovrò dare un occhio solo a reparto utenze per capire dov'è il problema e poi vendite e marketing come mai ad agosto speso così poco di vendite e marketing rispetto ai mesi prima e ai mesi dopo magari ci può stare perché uno investe tanto prima e poi durante quei mesi però attenzione ricordatevi anche cosa aveva detto Andrea nella lezione precedente se la bolletta arriva oggi non è di oggi è dei due mesi prima se io investo oggi per guadagnare ad agosto quel costo non è di oggi anche se finanziariamente sto tirando fuori oggi ma quel costo è di agosto perché i ricavi relativi a quel costo mi arriveranno ad agosto quindi probabilmente in questo caso la struttura non li ha divisi bene o forse sì però c'è un'incongruenza andiamola a vedere e poi ci sono tutti i reparti operativi dove possiamo vedere che il ristorante ha il costo più alto ad agosto ma è il ricavo più alto a luglio come mai così tanti costi ad agosto senza così tanti ricavi i ricavi più alti sono a luglio 96.000 invece ad agosto sono solo 84.000 tra l'altro e nelle camere come mai a luglio questo eccesso di costi rispetto al mese prima e al mese dopo quando i ricavi maggiori sono ad agosto ok una volta aperto il sommario questa è l'analisi che noi facciamo per tutti i clienti che utilizzano i co-profit che ce lo chiedono quindi una volta aperto il sommario e visto dove andare a toccare meglio a rivedere meglio ci andiamo ad andare reparto per reparto o meglio scusate prima posso trasformare tutto in percentuale e capire che se in realtà se faccio l'analisi in percentuale questi numeri non sono così importanti questo sembrava il costo più alto beh no in percentuale sui ricavi del mese no quindi potremmo fare svariate analisi in questo esempio mancano 0 minuti praticamente alla pausa vado veloce vi faccio vedere come le utenze il problema era qui nel gas che a settembre è molto più alto dei mesi prima però ci sta è ovvio che ad agosto non utilizzo il gas e a settembre sì forse quello è un po' alto oppure nelle vendite marketing il problema era ad agosto che non ho pagato l'associazione degli albergatori o le riviste alle quali sono abbonato e non ho pagato i pay per click quindi o probabilmente il cliente in questo caso non avrei inserito i dati ristorante posso andare a vedere qual è la media di profitto del ristorante quant'è il profitto a persona grosso per eting profit per available customer questo qui quindi posso vedere che a maggio per ogni persona che si siede nel mio ristorante io ci perdo 5 euro quindi è meglio non far sedere nessuno mentre in altri mesi per esempio ci guadagno qualcosina ma ad agosto ci guadagno meno che nei mesi prima perché perché il ricavo di agosto per persona al ristorante è più o meno come quello di luglio ma il costo è più alto perché magari avrò dato qualità maggiore o più camerieri più personale costo degli alimenti posso andare a capire dove ho speso di più dove ho speso di meno posso andare a capire anche le bevande che in questo caso questa struttura ha deciso di dividerle in questa maniera magari mi immagino vini a base incluso nella mezza pensione pensione completa vini speciali alla cart posso andare a vedere il costo del lavoro della cucina piuttosto che della sala posso andare a vedere tutti gli altri costi del ristorante poi tutta la parte camere con tutti i grafici e gli indici la divisione costi fissi costi variabili e tutta la tabellina anche qui tutta questa analisi che ho fatto molto velocemente mi scuso per il ritardo anche con chi è online tutta questa analisi vi farò vedere come tra un quarto d'ora la potete fare automaticamente per la vostra struttura perché abbiamo studiato vari motori di intelligenza artificiale che fanno tutto quello che vi ho fatto vedere automaticamente voi dovete solo leggere i dati così come lo stavo facendo io nell'ultima parte e capire dove sto spendendo di più dove sto spendendo di meno e perché